Mario Pacali, informatore vigevanese. Sono da poco passate le 14 di lunedì 31 ottobre. Siamo qui all'interno del cimitero urbano di Vigevano e come vedete, nonostante l'orario piuttosto insolito, è abbastanza affollato perché a Vigevano, lo sappiamo perfettamente, c'è sempre stato il culto del cimitero. Domani è la ricorrenza di ogni santi e ovviamente ogni tomba viene guarnita di fiori. C'è un ricordo importante per i nostri cari defunti. Però ci sono anche dei problemi all'interno di questo cimitero. Siamo stati chiamati per una questione relativa ai colombari situati nella zona nuova del cimitero dove manca la luce, ne abbiamo contati 84 senza luce. Ma questo non è solo l'unico problema. Abbiamo riscontrato tantissime problematiche all'interno del campo comune nella parte vecchia del cimitero. Tombe che sprofondano, addirittura ci sono dei buchi lungo il camminamento che possono mettere a rischio anche la pubblica incolumità. Mucchi di sabbia abbandonati a se stessi in mezzo alle tombe e addirittura anche una piccola ruspa lasciata così. Ci chiediamo a questo punto se questo è lo stato del cimitero di Vigevano qual è l'opinione del sindaco rispetto a questa situazione che stiamo evidenziando con questo video e soprattutto anche qual è l'opinione dell'assessore alla partita.